Nuova operazione dei carabinieri nel quartiere di Miano a Napoli. Da circa 48 ore i militari dell'arma stanno passando al setaccio varie palazzine del territorio. Un'operazione ad alto impatto portata avanti dal comando provinciale di Napoli e che coinvolge anche altre zone epicentro della nuova faida di Camorra. I militari hanno eseguito perquisizioni per blocchi di edificio con il controllo dei pregiudicati e di altri elementi noti alle forze dell'ordine. Nell'operazione sono stati impegnati oltre 100 uomini delle compagnie Vomero e Stella del battaglione Campania e dei nuclei radiomobile Cinofili di Napoli che hanno sottoposto a perquisizione circa 70 appartamenti nel complesso di edilizia popolare del rione San Gaetano. Area ad alto tasso criminale dato che si tratta del territorio controllato dal gruppo camorristico del clan lorusso. L'intervento dei militari dell'arma è durato l'intera mattinata con controlli anche in garage e parti comuni degli edifici alla ricerca di droga o armi. Niente di rilevante è stato però messo agli atti.